Una settimana fa a Ribera era stato il 96esimo, sette giorni dopo al di Polito fatale e il 94esimo. Ancora in pieno recupero sfugge il risultato al Zambiase ma mentre da Ribera si è tornati a casa con almeno un punticino, la gara casalinga con il città di Messina non regala neanche quello lasciando i giallorossi di Mancini a bocca asciutta. Il gol di Manfred nel recupero del primo tempo illude il Zambiase che subisce nella ripresa, in otto minuti terribili, le due reti ospiti con D'Angelo e Citro. Nella prima uscita a casalinga del 2013, mister Mancini è costretto a scelte obbligate. Non ci sono Cristaudo e Curcio squalificati e neanche Morelli, Russo e Filardo infortunati. Tra i 18 convocati figurano invece Porpora, Guerreri, Agugli e Cacciaro non al top della condizione, i primi due sono addirittura titolari. Nonostante le defezioni, l'avvio è dei padroni di casa che si fanno vedere dalle parti del giovane estremo difensore peloritano di Salvia in almeno tre occasioni nei primi sette minuti. Prima con Martello, quindi con Lio. E ancora con Martello, imbeccato proprio da Lio su schema dalla bandierina. In questa terza occasione, di Salvia è costretto all'intervento. Il città di Messina si affaccia per la prima volta timidamente dalle parti di Desio con questa punizione di Avola che il portiere giallorosso blocca senza problemi. Decisamente più pericolosa è invece l'azione successiva, al ventunesimo, con Citro che serve in area Saraniti, colpo di testa dell'attaccante Miracolo di Desio che sventa un gol a praticamente certo. Dopo la paura, riprende a macinare gioco il Sambiase. Lio ci prova in due occasioni da piazzato. Nella prima, la sfera termina di poco alta sulla traversa. Nella seconda, Di Salvia respinge coi pugni. E' sempre la squadra di casa ad avere il pallino del gioco nella prima frazione. Gol sfiorato al 38esimo con la girata di poco fuori misura di Savasta. Non fallisce il bersaglio, invece Manfrede, allo scadere del secondo dei minuti di recupero concessi. La sua girata a rete colpisce il palo interno alla destra di Di Salvi e carambola in rete dalla parte opposta. Primo centro stagionale per l'ultimo arrivato in casa giallorossa. A riposo si va quindi con Sambiase meritatamente in vantaggio 1-0. Nella ripresa la musica però cambia. Dagli spogliatoi esce un città di Messina più determinato mentre il Sambiase sembra aver raffinito le energie. Nonostante ciò, qualche occasione per chiudere la gara sul 2-0 capita. Vedi quella che si registra all'ottavo tra i piedi di Manfrede che va via da solo ma si perde sul più bello e conclude a lato. La squadra di Rando ha adesso un altro piglio e va vicinissima al pareggio al tredicesimo. Citro, incontenibile, crea lo scompiglio in aria. Il suo diagonale è destinato però sul fondo ma ci arriva Saraniti che a botta sicura calcia sul palo. Il match è ricco di cambi di fronte con Sambiase che gioca di rimessa e Messina che invece prova a fare la gara. Ci prova da una parte Sambiase mentre dall'altra il Sambiase crea prensione dalla bandierina. Quindi Saraniti spreca così una buona occasione mentre la punizione di Lio termina alta e alta termina anche la botta di assenzio. Al trentaquattresimo, nuova occasione per chiudere l'incontro per il Sambiase con Savasta che conclude a lato prima degli otto minuti terribili per la squadra di Mancini che cominciano al quarantunesimo con il pareggio ospite del neo entrato d'Angelo che approfitta di un liscio in aria della difesa di casa per piazzare la sfera alle spalle di Desio e terminano con il contropiede magistralmente partito dai piedi di Saraniti e concluso da Citro con il gol dell'1-2. Rimonta compiuta. Al città di Messina l'intera posta in palio. Al Sambiase tanta rabbia e niente più. Al Sambiase.